Porca miseria, bisogna vivere con passione, con passione, e troppe volte mi accorgo, anche guardandomi attorno, insomma, delle persone che veramente sono, non hanno più connessione con l'idea del vivere con passione, della gioia di vivere, di essere felici solo per il fatto che sei vivo, che stai respirando. La vita non è uno scherzo, la vita è una scommessa contro ogni probabilità, il fatto che siamo vivi è già una ragione per essere contenti, è certo la vita ha alti e bassi notizie positive e notizie meno positive, non c'è ombra di dubbio, ma puoi provare a staccarti da questa cosa e a tornare a vivere non soltanto essendo succube di quello che accade, ma essendo legato alla vita stessa, a questo incredibile miracolo, a questo regalo che la natura ci dona e che troppe volte diamo così per scontato. Quindi sorridi di più, goditi le esperienze, anche, mi viene da dire, anche quelle che non sono super positive, impara qualcosa da quelle, sii autoironico, non prenditi troppo sul serio, non prendere niente troppo sul serio, perché tanto siamo qua per un istante e poi tutto finisce, quindi goditi quell'istante.